buongiorno a tutti e benvenuti su scudere oggi vi propongo un appartamento sito nel centro di chiavari siamo nella zona dell'ingresso dell'autostrada e l'appartamento è una casa signorile composto da soggiorno come stiamo vedendo anche dal video cucina abitabile tre camere da letto e bagno l'appartamento ha una vista interessante sul sulla collina come vediamo anche da questo balcone e poi ribadisco è un appartamento molto grande di tre camere soggiorno cucina bagno in buone condizioni originali stiamo parlando di un secondo piano con ascensore e andiamo adesso sempre con il video a vedere la prima camera da letto quella più grande che espone sempre nel balcone che abbiamo visto precedentemente il balcone è collegato con questa camera da letto e con la cucina ricordo solo la cucina è abitabile seconda camera da letto le camere sono tutte grandi purtroppo la giornata è serale essendo arrivato ormai l'autunno è quasi l'inverno non abbiamo tantissima luce però l'appartamento è molto luminoso vedete in ottime condizioni proseguiamo nel nell'ingresso corridoio che anche questo è quello che suddivide l'appartamento è molto grande e andiamo nella terza camera da letto con questo abbiamo terminato il nostro video io vi ringrazio di aver visto questo video con scudo re e alla prossima scudo re protegge il tuo sogno immobiliare e a a a a a a a a a